bella a tutti ragazzi io sono valerio io sono francesco e oggi siamo in un altro video per provare dei test che ci propone in web per vedere se conosciamo il personaggio dell'anime l'altra volta abbiamo fatto come si chiamava l'anime e oggi andiamo a vedere i personaggi quindi se non l'avete visto vi consigliamo di andarla a vedere e lasciamo link qua sopra e infatti come vedete oggi faremo questo inovina il personaggio che sarà peggio della quarta volta perché almeno l'anime noi lo sappiamo però puoi andarci ad entrare dentro l'anime però diciamo che questo programma questa volta ci aiuta perché non dobbiamo andarlo a scrivere noi che è impossibile ci darà 4 opzioni quindi iniziamo sarà tempo quindi ci dobbiamo anche sbrigare quindi allora questa è Noast è Spadentrider direttamente da da una cosa da guampaggio sono 15 beh, questo qua è zoro auroro noah c'era il trucchetto Ma volendo potremmo fare anche un video su Trivacark Perché ci sono questi test Un partito Cosa? Cosa? Perché? Niente Ragazzi questo programma Vabbè Tanto non la conoscevamo Vabbè però Allora Di nuovo Di nuovo Per questa volta Ok Chi era? Non la lasciamo No 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 Vecchietta Vecchia Io questa qua No invece l'altra Io comincio un'altra volta Come si chiama il loro gruppo? Che chi sono? Superbrothers La vittoria Buster Viva la pace Buster della pace Sì Della pace Della pace Molto bello questo Chi è codesto Il solito personaggio È Mugen Jin Fu Jin Fun Facciamo fu Vabbè È uno dei due No Mugen È Mugen Ma è mell'aspettare Mell'aspettare Ecco E io Ragazzi Quante volte lo dovremmo fare Perché non è come nell'altro Che è quello che è Ah questa cosa sappiamo Questa cosa Con la I Con la I Ecco Dai Sono 15 Eh ma dai Ma non è possibile No face Secondo me no face Perché diciamo Non la faccio No 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 Ragazzi Sarà molto lungo Molto lungo Questa cosa Non si dirà mai Che Questo ninja è uno Tra i miei preferiti Sì Tra i tuoi preferiti Sì No Da lui Da lui Adesso dobbiamo andare A tentativi Che non li impariamo Di a memoria Eh ecco Questa la conosciamo Questa già l'abbiamo vista Parecchio Vecchio 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 Avanti L'altro Eh 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 Lo sciamo Ma che ti pare Che non ti ho lasciato Lo levi Da lui Da lui È uno dei suoi preferiti Come ho fatto L'ho ancora lasciato Eh questa è qualcosa Di Tokyo Ghoul Forse Ovviamente con questi nomi Mi aiuta Però questa ha la faccia Da Nashiro Nashiro? Sì Secondo me è Nashiro Ah beh è la faccia Da Nashiro Non dicevo fare niente Sì Ancora peggia Che è questa già? Che è questa già? E' Tsuruko Memma Anaru Yu Secondo me Tsuruko No Memma Memma Però siamo arrivati a 4 4 Ah ma Che è quello che avremmo arrivati anche prima Sì No 3 Spade and Raider Questo che ci ha fatto? Questo super eroe Insomma Super eroe No No Non ci riemperemo ma qui No vai Ah Era l'altro Quello da sopra Perché era Con la I Con la I Ma dai ma fai schifo Tu che crei questa cosa Era questo? No Noro Ok Finiranno prima o poi Giovane scienziata Ma Come è Curiso? Curiso Makisa 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 Tutti uguali Cambiamano solo le ultime lette Le sede del nome Che del cognome Fai schifo Tu che hai creato questo Poi lo vediamo E lo L'odiamo Bann Super si chiama Bann Bann Qual è il suo peccato? Eh aspetta Io crederei Che poi Ah ok Averizia Acidia Averizia Wow Spallend Raider Già è buono se arriviamo a 8 Già mi accontento Sì Però ci dobbiamo arrivare Ok Noro Dai Dai Che ce la facciamo Noro Non sapremo mai Dove proviene Aspetta Era Nashiro Nashiro Sì Nashiro E che il problema No aspetta Questa è quella del nome e cognome No Era Con la I Con la I Agane Agane Tuani Sì Quanto siamo? Sei Cinque zeccare Eccolo Aspetta Questo E' Amon E' sicuro Amon E' Kotaro 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 Nooo Quanto abbiamo fatto? Sei Sei Vecchia Vecchia ziro Vecchia ziro E qui ci siamo Vecchia ziro con la I Vai 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 No No Dai No No Prossimo Dai Eh Questa No Chi è? Fu Fu Non lo so No No Facura No E' Agu quella delizio Che voi non l'avete mai fatto Vero No Dai 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 Eh Agu 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 Dai Se abbiamo l'otto finiamo la prossima di te Questa è con la I A Akane A Akane Tu morì Ok Ciao Ciao No Questa è Questa è Questa è Adorabile piccola Chita Chita morto sicuro Chita morto Chita morto Chita morto Chita morto Chita morto Quante sono Hai Non sono vero mai Vecchio Dai Perchè Ma perchè Già ne abbiamo fatto un po' Perchè non ci possono capitare tutte quelle che abbiamo fatto Questa era Kai Kashane Nashiro Quale era Nashiro 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 Noro Noro Non è qua Noro Non so più Noro Dai Dai Questa era Della pace Famiglia La pace La pace Bastus Della pace Questa Questa l'abbiamo vista No Era quella col nome Ok 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 Non ricordavo per niente Aspetta Questa L'abbiamo visto prima ed era Ma Era Amado No? Era Amado Noo Noo Era Kotaro 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 Lo vogliamo fare Dai l'ultimo Va Ultimo buff Ultimo buff Ok Questa è quella Eh Akane Tumori Dai E' l'ultimo E' l'ultimo Vecchio giro con la I Ok Dai Spastrider Spastrider Questo è l'unico Che abbiamo saputo Tentare Senza cittare E' questa coppia Perché l'abbiamo azzeccata Nascero Dai Quattro Dai Un oro Ottimo Ottimo Saranno l'unico Che mi ricorderò Questa La Uelae Quindi Corizo Maize E' la Uelae Non lo ricordo che è questa Sei Ok Già abbiamo superato il nostro record Adesso c'è la pace Dai Se riusciamo a farne 8 Questa come si chiamava Noo Era Menma Menma Seiii Che dubbio 8 Possiamo farci 8 Aspetta Questa l'abbiamo vista Ed era Mugen Ragazzi Potremmo Ragazzi Acqua 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 Forse abbiamo rotto il gioco E lo sapevano tutti Acqua Oh L'avarizio 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 Rifacciamo Dovemmo rifare Dovemmo finirlo Ragazzi Diciamo che questa è l'ultima volta veramente perché lo sappiamo tutti oramai Quindi Quindi Dai C'è giro la prima Dai È più veloce della luce Ok 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 Acqua 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 A Yusuke Kitamura Sicuramente no No Taika e Aisaka No Taika Ottimo Tu eri Ok adesso vediamo Kotaro Kotaro An 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 Ti fai Ne Prechi Questo Da E Da lui Da lui Da lui Ok Ok Aspetta Questa ha fatto schifo Allo Gioro Hero Hero No E questo Basta Qesta qua ha fatto schifo ovviamente questa risposta perché non ha affakthat confusingzi In utilizzo til di entrare Dai dai questo lo vinciamo ragazzi l'abbiamo rotto il gioco naturalmente Ecco come vincere un test, provarci fino alla fine Provarci fino alla fine Qui senza la vera Non saprò mai infatti chi è La cane Tussumori Tussumene Mori Noro Ora vado a vedere di che Noro Adesso dobbiamo stare concentrati Ue Questa quindi è Ue Questa L'ultima E lo sappiamo E' l'Amarizia E' l'Amarizia L'abbiamo finito Si Ti interessa basta Noro Andiamo a cercare subito Noro Per cercare Noro chi sia Noro Tokyo goal Va bene Ragazzi noi siamo riusciti a finire questo test Grazie alle nostre capacità Di memoria Perché questo era un test di memoria E' stato veramente bellissimo come esperienza Questa Salviamo e ce la mettiamo come sfondo di qualsiasi cosa No E' niente E' niente ragazzi Porteremo probabilmente altri video su questi test strani Magari su qualcosa che veramente sappiamo Tipo un test sui personaggi di Dragon Ball Vediamo adesso lo cerchiamo vediamo se c'è Se c'è vedrete il video Se no non lo vedrete Va bene Noi ci vediamo All'un prossimo video Ciao 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 ciao